In classifica le Ferrari si fanno sfumare una doppietta. Giacomo, secondo te, l'ultimo weekend in cui la Ferrari è stata davanti ai rivali della Red Bull e alla fine non ha portato a caso il bottino sperato, è un po' il film di questi primi Gran Premi? Ho il copione che si vede dall'inizio della stagione. L'idea è che la Ferrari deve capitalizzare assolutamente questa superiorità perché non si sa fino a quando questa possa finire. Purtroppo si sa come in Formula 1 le cose cambiano rapidamente. Se non capitalizzi quando hai la macchina superiore, poi chissà. Sappiamo come la Red Bull, sappiamo come i Nui, se riescono a sviluppare la vettura meglio della Ferrari poi potranno prendere il volo in classifica.